il terzo il terzo parlamento il terzo parlamento eh beh eh oggi parte una una rubrica eh curata proprio dal dal dottor Paride Le Borace eh che saluto ciao Paride come stai? Ciao Umberto grazie di avermi chiamato al terzo parlamento. È veramente un piacere averti Paride ecco tanto per presentarlo Paride Le Borace giornalista d'inchiesta molto importante ma anche uomo eh eh di di grande esperto anche il mondo cinematografico insomma ha ricoperto un ruolo importante come come direttore anche della Lucana Film Commission rapporti con la Calabria Film Commission e tanto altro però adesso eh diciamo il ruolo che hai nel terzo parlamento eh e soprattutto eh diciamo accendere eh una luce particolare e mettere una lente di ingrandimento per quello che sta accadendo in Italia eh in riferimento al fenomeno proprio della della delinquenza soprattutto dell'andrangheta eh Paride ovviamente ehm sei un riferimento per quanto riguarda la Calabria e la Basilicata per il terzo parlamento però ovviamente parlerai anche eh diciamo di questo fenomeno che ormai è globalizzato è mondiale e italiano eh ora il punto è eh quando parliamo di Andrangheta si pensa solitamente alla Calabria se ci pensa al sud Italia ma invece forse l'epicentro è il nord Italia dico bene Paride eh dici benissimo eh nord Italia è ormai contaminato da tempo da questa penetrazione ma come dicevi bene anche è un fenomeno globale perché eh l'andrangheta è considerato il network più potente nel mondo siamo freschi reduci di pubblicazione dell'elezione semestrale della DIA sulle ultime evenienze su questo fenomeno quindi parliamo di atti ufficiali Umberto trasmessi al Parlamento dai maggiori investigatori di questo paese e pensa tu insieme agli amici che ci guardano che dal porto di Gioia Tauro eh è transitato il 50% della cocaina sequestrata in Italia credo che questo numero dà una dimensione della questione e faccio osservare eh perché seguo queste vicende che è un dato del 2022 mi pare di capire a seguire numerose eh operazioni e che eh adesso si stia differenziando l'arrivo dei porti perché passa noi parliamo del 50% del sequestrato quindi noi abbiamo un X non sappiamo qual è la quantità la immaginiamo anche perché il nostro paese e il mondo sono invasi da questo consumo che non è più quello di un tempo di pochi vip che si divertono con la polvere bianca oggi i muratori rumeni si accompagnano alla cocaina eh esattamente quindi è una questione immensa che non finisce mai che produce una ricchezza enorme per questa organizzazione criminale poi vedremo come si è contaminata con eh i colletti bianchi stavo dicendo rispetto ai porti siccome Gioia Tauro comincia ad essere molto molto eh vigilata si prova a fermare più possibile però per quando ne sequestrano ne passano tantissimo quindi hanno cominciato a differenziare infatti registriamo operazioni nei principali porti italiani Genova eh Livorno eh l'Adriatico ma poi non dobbiamo dimenticare che sono secondi a fase di passaggio i porti internazionali è noto che Ambersa sia un approdo eh in Spagna di recente qualche mese fa c'è stato il sequestro incende in un'isola a largo della Spagna ma soprattutto proprio la relazione pubblicata ieri segnala il fatto era noto però adesso assume contesti più eh ragguardevoli del lab di smistamento che c'è nei porti africani dove è molto facile approdare per poi continuare questo che è un vero e proprio eh traffico eh traffico globale questa incende quantità di cocaina ricordiamo mi pare no no perdonami una cosa importante quando parliamo di porti africani ma eh a questo punto quella cocaina rimane in quei territori oppure ritorna in Europa? No eh diciamo che la rotta sono molte parte dal Sud America dove viene prodotto e qui stavo dicendo appunto che oggi da tempo i clan eh maggiori d'Indrangheta a volte in sinergie eh comprano direttamente con soldi cash spesso dai cartelli colombiani da quelli messicani organizzano i viaggi eh secondo gli accordi che prendono smistano quasi sempre su questi porti a pro di africani abbastanza sicuri al momento per poi prendere la rotta dell'Europa che Spagna Nord Europa eh e Italia. Ecco parte perdonami ma la rotta eh il ritorno Spagna in Europa praticamente viene fatto attraverso altri corrieri oppure c'è il sospetto anche che nel movimento dei eh profughi via ci possa essere anche questo tipo di no i profughi non viaggiano con droga perché sarebbe compromettente può essere un singolo scafista qui parliamo di navi di enorme dimensione che all'interno dei dei container occultano eh incendi quantità di cocaina molte operazioni eh gli amici che ci seguono avranno visto immagini del telegiornale eh occultati nei frutti esotici i lavandini eh che alla base eh viene costruito il lavandino e viene messo dentro la quantità e poi viene consegnato a compiacenti eh ditte al di sopra di ogni sospetto che acquisiscono il materiale dell'import e export e eh e poi consegnano a chi di dovere in nome di incendi quantità. È un'organizzazione di tipo spectre non vuole la fine del mondo ma vuole il suo arricchimento che corrompe eh poliziotti eh dogane perché i soldi poi eh riescono a far vedere la vista degli occhi dice un proverbio meridionale no? E quindi la lotta è molto complicata è molto complessa e questo ingente denaro viene reinvestito viene reinvestito molto nell'edilizia nelle banche negli studi finanziari perché la nuova andrangheta è molto modificata pur se è rimasta ancorata ai suoi paesi d'origine San Luca per esempio la Splomonte rimangono la mamma delle organizzazioni ma eh le giovanissime generazioni spesso hanno nuovi ingranghetisti che hanno studiato nelle migliori scuole del mondo sono dei brokers finanziari capaci di investire e a questi si accompagnano moltissimi personaggi al di sopra di ogni sospetto ne sono stati identificati tantissimi e proprio il radicamento e l'infiltrazione al nord ormai ha una sua mappa storica l'andrangheta al nord arriva spesso per una politica che non si poteva sapere ma che era sbagliata di mandare al confino in paesini della Lombardia e del Piemonte soprattutto ma anche del Trentino e di altre zone d'Italia per dire noi ti colpiamo non ti riusciamo a restare ti mandiamo al confino in questo paese ebbene quella è arrivata al paesello ha costituito una società edilizia si è chiamati i paesani si è chiamati i parenti e oggi appunto per stare alla recente relazione dia anche questa volta perché poi sono mutevoli contiamo ma a mio parere sono molto di più perché mi sto occupando molto della materia di 29 locali d'andrangheta eh dislocati nel nord Italia io ritengo che dobbiamo spiegare come funziona la questione dell'andrangheta che per lungo tempo rispetto a cosa nostra non se ne sapeva poco e niente veniva identificata come quattro poveracci che nei propri paesi e avevano questa azione a delinquere ricordiamo che ahimè proprio installandosi al nord nel modo in cui si ho detto là nacque l'industria dei rapimenti di persona che caratterizzò vent'anni di storia italiana e anche lì un'accumulazione di denaro spaventosa tant'è vero che se qualcuno va a Bovalino e chiede del quartiere Polghetti sarà portato a delle case che furono costruite con i ricavi di quel celebre eh rapimento che fece parlare di tutto il mondo e che di recente anche abbiamo visto ha creato un film eh è una serie dedicata a quella ormai eh ormai a quella storica a quella storica eh vicenda quindi tanto denaro prima quello dei rapimenti quello poi quello dei sequestri l'andrangheta si scopre scusa eh l'influenza che è l'andrangheta nel nord per quanto riguarda proprio questi paesini consigli comunali perché so che ci sono tantissimi comuni che vengono sciolti addirittura per proprio esattamente ormai anche questa è storia eh solo che viene dimenticata e quindi si pensa l'andrangheta solo una questione calabrese noi invece abbiamo comuni come Bardonecchia un comune molto eh importante legato al turismo anche se di piccole dimensioni ventimiglia eh Las Lasas un piccolissimo borgo del Trentino che però aveva del a delle dei giacimenti di porfido rosso molto pregiati che sono stati infiltrati dai clan e quindi in questi piccoli paesi dove poi la presenza di calabresi anche onesti però per voto d'appartenenza territoriale falsa il gioco democratico e quindi questi cinquecento settecento mille voti a secondo della popolazione vanno a battere sul percorso democratico di queste realtà completamente diverse da quelle meridionali che sono state contaminate però non è tutta responsabilità dei dei politici e scusa dei degli intrancheristi perché c'erano tantissimi condannati in maniera definitiva uomini di successo che hanno cercato questi eh capibastone questi uomini dal doppio agire per potersi assicurare questi pacchetti di modi oggi c'è un po' più di prutenza perché diciamo ne hanno pagato le conseguenze in molto con lo scioglimento dei comuni eh dei comuni ma anche con cordanne molto pesanti che vanno dai sei ai dieci anni di personalità di un certo successo e i fatti sono stati numerosi alcuni non arrivano a verità giudiziaria perché è complicato anni fa in Piemonte c'è la questione dell'interessamento sulle sulle primarie del partito democratico che videro l'influenza di assicurarsi il pacchetto di voti poi alle primarie ancora più facile eh per potersi assicurare questo tipo di questione volevo farti una domanda anzi è una richiesta che ti faccio proprio magari per un'inchiesta futura eh noi abbiamo scoperto che in riferimento al famoso bonus 110 e ti ricordi insomma che addirittura molte imprese prima ancora che la legge fosse realizzata erano quasi a conoscenza di questa di questa norma e poi abbiamo visto che cosa cosa è successo infatti Scampia è stato un epicentro di tantissimi scandali e truffe ed altro e quindi volevo capire anche cosa è accaduto perché poi pensando anche le elezioni precedenti quelle prima del governo della dell'ultima elezione parlo della eh vittoria della grande vittoria diciamo elettorale del momento 5 stelle ehm quella vittoria insomma ci fece rivedere un po' la ricostituzione del regno delle sicilie ti ricordi praticamente filotto è stata la più grande protesta elettorale benissimo filotto in Sicilia in Calabria ed altro e quindi un po' insomma ehm ovviamente stravincere in Calabria stravincere in Sicilia senza eh la benedizione insomma voglio dire insomma sembra una cosa un po' non facile e quindi il punto è capire un po' che cosa è accaduto anche in riferimento a quella a questa esperienza del bonus 110 questa roba qua e soprattutto pensare adesso anche al PNRR si parla molto di ponte eh eh sono stretto di Messina ecco che rapporti può avere l'andrangheta con queste con queste realtà molto importanti guarda l'andrangheta è una come dicevo prima è una grande holding criminale che ormai cerca di mettere da parte l'aspetto militare violento di non farla apparire di chiamarlo solo alla bisogna e eh si realizza molto bene in termini economici con i suoi metodi tantissimi al nord sono imprenditori editoriali e edili che lo scusa di di successo poi c'è la questione molto abile sfruttando dei contabili capacissimi e anche molti commercialisti di mettere su delle società le cosiddette cartiere e di lavorare illegalmente su sulla questione delle fatture perché c'è bisogno di riciclare tutta quella massa di denaro venendo ai tuoi ragionamenti non mi sottraggo ho delle mie idee e sicuramente eh come aveva profetizzato Sciascia con la linea della palma ormai l'andrangheta non è che sta a Gioia Tauro soltanto a San Luca da sempre il Parlamento non dico niente di eh di esplosivo appunto Sciascia con la metafora del giorno della Cidrevetta l'aveva raccontato quindi c'è capacità di sapere in anticipo quello a cui tu riferivi per adattarsi tra l'altro hanno avendo mezzi facili molti soldi a disposizione hanno grande intuizione imprenditoriale con questi vantaggi e come giustamente Gratteri aveva detto adesso da un po' di anni con Covid loro eh entrano molto spesso in contatto con aziende in crisi che sono tantissime con poco denaro le banche chiudono i rubinetti quindi loro all'inizio sono molto aperti di di quanto hai bisogno un milione di euro 500 mila euro dov'è il problema? Il problema arriva poco dopo quando tu non riesci più a saldare se è usuro oppure se è restituzione e loro quasi sempre si riprendono questa azienda e così possono scalarla riciclare e far girare i soldi al loro vantaggio insomma è un circuito molto complicato rispetto al riferimento che facevi mh stiamo attenti a dire che se c'è stato un voto di massa nel sud fuori le 5 stelle non è in questi termini no 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 assolutamente no volevo la comprensione era siccome c'è stato questo filotto e che rapporto può aver avuto la diciamo queste organizzazioni con un plebiscito del genere diciamo se c'è una caratteristica che ha avuto il Movimento 5 Stelle è stato anche di essere diciamo manettaro e iper legalitario infatti eh le poche formazioni di un movimento che non ha grandi strutture di partito soprattutto nella fase iniziale nella fase due oggi è un po' diverso hanno molto poggiato su eh strutture del territorio di circoli che hanno fatto grande lavoro soprattutto al nord devo dire al nord ci sono delle storie eh incredibili nel paese di eh dove viene Brescello dove viene ambientato il film di Peppone Don Camillo altro comune sciolto nella rossa Emilia Romagna di Peppone dei giovani dei ragazzini fecero un'inchiesta al basso con le loro telecamerine facendo vedere quello che nessuno voleva vedere cioè a dire che grande c'era Acre comandava questo comune per esempio e diciamo ma non so se hanno votato 5 Stelle però questa è quell'area quella galassia l'andrà anche da che non si ferma dai 5 Stelle ha tratto i falsi eh redditi di cittadinanza che questi incassano creando un problema un ottimo strumento ecco parli attenzione dobbiamo dire che il plebiscito che c'è stato con i 5 Stelle c'è stato col centrodestra eh eh lo scorso anno praticamente eh infatti quindi ecco e quindi sicuramente un voto oggi l'elettorato è mutevole sicuramente l'andranca di in Calabria più volte è entrata nel gioco muovendo una serie di voti in alcuni paesi però diciamo non è eh bisogna stare pure molto attenti perché questa questione è molto vasta e complicata come lo scioglimento di certi comuni che a volte non dobbiamo essere sciolti dobbiamo avere pure ma questo è importante far capire a tutti quanti che la volontà popolare è più forte per il momento senza dubbio per fortuna per fortuna ovviamente ecco tu parli eh eh hai fatto anche delle inchieste in riferimento proprio alla questione del covid eh l'epoca del covid le forzature di mascherine di falsi tamponi eh c'era ci parli un po' di questo per favore. Sì sempre nel nord per esempio perché eh torno a ripetere che loro hanno delle antenne eccezionali eh scopriamo il covid noi pensiamo a proteggerci a fare volontariato a chiedere misure loro già erano già avanti eh nel chiedere nel trovare le mascherine nel fornire tamponi c'è un'inchiesta che per esempio è nata su dei tamponi contestati nell'ambito di una partita del Monza di Serie B che poi ha aperto tutto un mondo anche con retroscena incredibile in dettaglio nella zona di Milano eh ma la conseguenza più netta è quella che dicevo prima rispetto alla vicenda delle delle aziende da infiltrare. Tra l'altro penso al terremoto ormai le intercettazioni le conosciamo spesso c'era pure criminalità organizzata nel momento in cui quelli in televisione vedono in tempo reale come accade nella società dell'informazione che ci sono morti e macerie questi pensano ai soldi che possono fare con i loro agganci e con il loro inserimento nel nel ciclo delle delle vicende. Tu poi poi parlavi del ponte, il ponte di attualità eh di queste ore ancora noi non sappiamo perché l'ultimo documento che io ho visto in queste ore eh indica delle cifre ovviamente sono aumentate ma mi rendo conto che passa il tempo però sempre più passa il tempo più aumentano i soldi però non ci sono coperture per fare il ponte chiusa parentesi ti aggiungo che mh in una discussione laica guarda io sono stato un oppositore del ponte negli anni precedenti io oggi dico facciamolo date un tempo facciamolo può essere una grande opera ma non sono convinto che serve perché in Sicilia e Calabria ma eh però dico faccia non può essere il fatto che c'è la mafia e l'andrancheta che si pigliano i soldi e non si fa il ponte cioè se non si fa non si fa per l'opposizione non si fa per motivi specifici ma noi non possiamo arrenderci al fatto che c'è la mafia e l'andrancheta e non si fa un opera pubblica. No no sì ma in ogni caso il PNRR serve anche per le infrastrutture voglio dire se non si sfrutta questa grande opportunità sembrerebbe il PNRR ovviamente è un rischio da correre sicuramente loro già sono attrezzati noi non sappiamo in questo momento a livello nazionale dobbiamo farlo però come sapete c'è tutto in discussione perché dei problemi ci sono stati e per manco loro sicuramente già hanno adocchiato i progetti dove infiltrare aziende pulite perché questo è il loro problema perché le interdettive antimafia che vengono dalla prefettura e a volte non hanno bisogno della sentenza questo non è il massimo dal garantismo lo dobbiamo dire un'altra eccezionalità italiana però spesso e volentieri sono i prefetti i questori che con misure interdittive sequestrando eh le aziende dell'agibilità economica di chi è sospettato però nel sospetto è un problema questa è una questione molto delicata perché c'è tutto poi una serie di storie di povere non povere di persone che sono rimaste vittime di meccanismi incredibili per esempio l'altro giorno ho scritto di uno affermato studio di ingegneria su grandi lavori come può essere al nord a Rivoli in Piemonte si presentano le persone sembrano ineccepibili chiedono eh stipulano un contratto come può essere uno studio del genere su un grande insediamento eh residenziale ovviamente un affare bisogna fare forse delle eh approfondimenti di più mirati e poi questo qui si è trovato in un meccanismo incredibile perché eh venivano sempre cambiati i conti appare un'altra persona toni minacciosi i costi di investimento li evitano questo si è trovato a non poter saldare più i debiti coi fornitori e lo Stato lo ha abbandonato perché quando sentiamo che poi lo Stato risarcisce le vittime questo signore è andato da dappertutto ormai va eh perché è una persona con una vita rovinata eh dalle iene a striscia la notizia ti ha raccontato la sua storia eh entro tre anni tu dovresti essere risarcito questo signore non non viene assolutamente risarcito. Certo certo. Ecco Paride eh in uno speciale fatto con Salvatore Borsellino proprio che andrà in questi giorni in riferimento alla famosa agenda rossa ehm di suo fratello Paolo Borsellino eh Salvatore Borsellino ha quando gli ho posto la domanda beh ok ma dopo Messina Benaro cosa c'è in Sicilia ci ha risposto chiaramente ci sono i calabresi è vero? È così eh eh è da tempo perché l'Andrangheta per lunghissimo tempo è stata capacissima di fare tutti questi soldi di fare un sacco di danni di fare un sacco di morti perché i morti in Calabria io mi ricordo essendo giornalista quando eh una volta è molto un bambino eh in un agguato di mafia i grandi giornali nazionali all'epoca avevano quattro cinque righe perché esso anche questo eh nelle riunioni di relazioni i grandi giornali come Repubblica e Corriere della Sera quando arrivava una notizia del genere il commento del direttore o che li guidava la riunione era ma della Calabria non importa più niente a nessuno ahimè è successo anche questo quindi loro hanno goduto di una eh immersione totale nel mondo di cui per lungo tempo nessuno si è occupato poi man mano hanno cominciato a fare gli sbagli perché ahimè non posso dire per fortuna sufficiente molto tragiche commetti commetti l'errore e in particolar modo sono stati due episodi storici che hanno cambiato la percezione uno un po' dimenticato ma gravissimo quando il vicepresidente del consiglio regionale fu ucciso in un seggio del partito democratico alle primarie con un chiaro segnale politico molto diretto e a quel punto anche la politica nazionale che diceva come i grandi giornali della Calabria che voi che imporzi se la vedono loro e allora là sono arrivati i grandi investigatori i magistrali hanno avuto più attenzione la stampa ha cominciato a cambiare opinione poi il grandissimo punto di svolta è quando si mostrano anche nella più tranquilla Germania con la strage di Duisburg in un ferragosto perché l'andrangheta sceglie per le sue stragi giorni di festa da far ricordare all'avversario in questo sono incredibili ricorderete che in un ristorante mentre c'era il rito di affiliazione all'improvviso l'Europa scopre che l'andrangheta nel cuore della ricchissima Germania dove ha prosperato e là sono cambiate molte cose anche creando fastidio nei vecchi boss che sapevano come si faceva le ruenze dei giovani boss sfuggite di mano in questi conflitti che hanno avuto hanno iniziato diciamo in quella tragedia almeno c'è stata la dimensione di acquisizione del problema ecco pare di una domanda ma ma a sto punto non sappiamo se poi c'è stato insomma con Borsellino abbiamo parlato molto lui ha un'idea ben precisa le stragi famose stragi di Falcone di Borsellino quanto la mafia siciliana veramente ci teneva questa cosa o se questa diciamo questi interventi sono interventi che sono arrivati da diciamo da altre volontà le ultime motivazioni le ultime motivazioni di sentenza lo dicono ecco che la mafia che la mafia avesse nel mirino con il Borsellino è chiaro ma soprattutto su Borsellino che si siano addentrate delle vicende terribili come al solito in Italia c'è un dato inoppugnabile caro Umberto noi per anni mi tiro fuori perché feci un libro in tempi non sospetti dove si può andare a vedere che lo dicevo abbiamo mandato degli innocenti come responsabili della strage di Via D'Amelio che era una cosa che non si poteva credere perché tu non puoi dare ascolto a un presunto pentito che sta con un tossicodipendente transessuale già questo non sta nelle regole della mafia l'aspetto tragico oggi chiarito ma che non tutti vedono e che persone che non saranno stati fior di calantuomini hanno fatto anni di carcere al 41 bis subendo anche essere l'assassino di Borsellino di fronte a una guardia insomma vi lascio immaginare che significa ebbene queste persone fino a quando spatuzza non ha aggiunto tasselli nella sua collaborazione sono rimasti in carcere e ci sono uomini dello stato che hanno dei nomi e cognomi e dei nomi in codice ormai conosciuti morti e premiati dallo stato che hanno fatto questa bella operazione in combutta con dei magistrati è accaduto anche questo ora paride hai sottolineato con molta precisione insomma quello che è accaduto l'esperienza di falcone di borsellino però possiamo dire che la scelta di totorina poi ha determinato la fine proprio della del potere della mafia anche nei rapporti probabilmente con la colombia con il sud america insomma e quindi e ha quasi ceduto insomma la sovranità della della del potere mafioso in sicilia all'andrangheta pensi che sia quello stato in il bivio praticamente condivido è stato un è stato un grande autocolle non è stato lucido presso dal dall'essere accerchiato l'escalation che parte dall'omicidio di salvolime arriva soprattutto alle stragi perché è in sequenza dopo le stragi inizio il 41 bis lì cominciano a indagare veramente alcuni uomini dello stato con delle contraddizioni perché mi pare giusto visto che stiamo rievocando questi fatti abbiamo ritenuto bruto bruno contrada uno 007 di grandissimo valore fatto anni di carcere e c'è bruto del tempo per riabilitarlo guarda io questa cosa ma ma non ho bacchette magiche andando a palermo per chiudere il mio libro ed avere informazioni prima mano sulla storia dei magistrati uccisi ho scritto un libro su tutti i 27 magistrati uccisi parlando con il figlio del giudici costa un grande magistrato una persona dell'antimafia mi disse guarda che questa cosa di contrada è quello che ha provato ad arrestare gli assassini mio padre è tutto in sicilia spesso la verità che vedi non è non è la verità insomma come in quel famoso film di john board e la leggenda che prevale però a volte è una leggenda molto tagliente molto pericolosa beh parli concludiamo sempre con un film il gatto parlo insomma alla fine sembra attuale penso che sia veramente fondamentale ovviamente siamo arrivati al termine paride e aspettiamo da te altre inchieste importanti grazie della visibilità è un piacere essere a terzo parlamento assolutamente queste buone iniziative che ci sono fuori dai canali ufficiali permettono di dire rievocando un altro film insomma delle cricche sono sempre le stesse ci permettono di dire qualche verità che cerchiamo di appurare e con l'essere terzi come si deve essere in questi in questi argomenti in questi aspetti beh sì è un rispetto della professione più che altro il ruolo della diciamo della dell'informazione al giornalismo ed altro e insomma bisogna essere al di sopra delle parti e non diciamo è avere le proprie idee commentare con quello che si pensa però essere onesti nel dire le cose insomma beh io ripeto concludendo proprio una frase del regole rizzo che dice ma in questa epoca probabilmente non c'è più parliamo di covido di guerra non c'è più bisogno di avere centomila televisioni basta solo una televisione i titoli sono sempre tutti uguali le informazioni sono sempre tutte uguali e questo è molto grave è un segnale insomma un po' pericoloso restamente grazie grazie a pari dell'eporace che incontreremo grazie a voi e un saluto a chi ci ha seguito grazie pari grazie e un saluto al nostro direttore alla prossima sigla grazie a tutti